L'Italian people? We are already done. No question? Sei contento con la vittoria, ti basta o ne vuoi più? Diciamo che... Io come ho detto ho dovuto far bene all'inizio del Giro d'Italia le prime due settimane ci sono tappellate quindi voglio arrivarci molto forte però allo stesso tempo non voglio arrivarsi troppo spremoto quindi sicuramente sarò presente nei prossimi sprint ma bisogna vedere come si metterà la corsa anche a partire da domani L'importante è gestire le energie spendere il mio possibile ma cercare comunque di fare il risultato